Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24 Un'oasi sportiva immersa nella città Le previsioni del tempo per la provincia di Messina Oggi martedì 14 gennaio Cielo parzialmente nuvoloso con possibilità di rovesci Le temperature oscilleranno dai 12 ai 15 gradi I venti soffieranno con intensità media da sud I mari poco mosso lo ionio, poco mosso il tirreno Cielo parzialmente nuvoloso con qualcosa di molto soltava Grazie a tutti.